pronto pronto buongiorno cerco un super tifoso dell'ancona con chi ho il piacere di parlare con fabio baldoni fabio baldoni caro complimenti perché sei stato i pollici più veloci di ancona hai vinto tu il biglietto per ancona padova grazie addirittura pensavo non ci speravo più io ho mandato il messaggio alle 9 subito dopo che grasso aveva dato si poi non ho sentito più niente pensavo tipo forse avrà vinto qualcun altro sei stato qualcun altro più veloce del mio è stato no sei stato il più veloce sono arrivati tantissimi messaggi proprio sul filo di lana allora abbiamo verificato bene al secondo quale fosse arrivato prima e hai vinto tu ti faccio tanti complimenti grazie vorrei fare l'in bocca al lupo l'ancona per la partita di padua e speriamo di riprendere il cammino che sarà fatto al girone d'andata